Sono d'accordo, però l'organizzazione del partito c'è una questione nazionale, qui c'è un problema di la segreteria, sul livello locale stanno facendo un lavoro straordinario, e anche la festa è stata realizzata in modo perfetto, sono stati bravissimi. Ora l'importante è che là dove c'è discussioni come per esempio in Emilia adesso sulle primarie, una volta fatte arrivare, il giorno dopo è tuttissimo. E' complicato, è risolverla via. E' risolverla via Calabria. Ciao ragazzi, buona festa.